Il quesito che tutti gli uomini oggi si stanno ponendo è... Come mai non viene salutato Andonio? Per questo ci siamo rivolti ad uno specialista, il dottor Schnitzel. Benvenuti in queste nuove puntate scientifiche. In scorsi puntate noi aver imparato a cucinare cucciole di carne in forno. Ma adesso noi posare le cucciole di carne perché in queste puntate non servire. Va via brutto carne. In queste puntate noi vedremo Monten uniti per salutare signora Andonien in beneficenza. Voi donatene due euren salutare Antonien quattro volte. Adesso vediamo le prime clip del Monten che salutano Antonien. E chi è? Ciao, Andonio. Ciao. Saluta Andonio, fai così. Saluta Andonio. Saluta Andonio. Saluta Andonio. Saluta Andonio, saluta anche tu. Saluta Andonio. Ciao Andonio, ciao. Ciao Andonio, ciao. Vira acqua. Oh amico. Vanno a mangiare di pesca. Saluta Andonio. Saluta Andonio. Saluta Andonio. Buonasera, tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene, saluta Andonio. Ciao Andonio, ciao, ciao, ciao. Secondo le mie teorie, frutten stare insieme a frutten, bananen, insieme a meden, peren, insieme a uven, perciò umanen stare insieme ad altri umanen, quindi so salutare Andonien perché Andonien essere l'umanen, umanen, Andonien. Nella prossima puntata il dottor Schnitzel affronterà un dilemma esistenziale. Maurizio Costanzo ha veramente un collo? Grazie per la visione. Grazie per la visione.